Fino ad ora, parlando di accoglienza e supporto ai meno fortunati e marginati e senza tetto, i singoli operatori del cosiddetto terzo settore avevano messo in campo le proprie risorse, i servizi che riuscivano ad esprimere con le persone e i volontari di cui disponevano, creando un'offerta a ciò che poteva essere la domanda o la richiesta di chi si rivolgeva a queste strutture. Ora però, capofila il Comune di Fano, assieme all'ambito territoriale 6, prende vita un nuovo progetto, mirato all'inclusione delle persone senza fissa dimora, che però ribalta per la prima volta la prospettiva, ovvero mettendo al centro la persona e la sua esigenza, a cui la rete poi darà assistenza, creando una risposta. Altro concetto contenuto in questo progetto è quello che se la montagna non va da Maometto, allora Maometto va alla montagna. Pertanto sarà compito degli operatori andare ad intercettare anche persone che, per diverse ragioni, di tipo morale o emotivo, non si rivolgono direttamente agli sportelli dei servizi sociali o della Caritas o delle mense per chiedere aiuto, restando così ancora più ai margini della società. Le direttrici sulle quali si muoverà questo progetto sono attivazione di un numero dedicato, non ancora attivo però è in fase di strutturazione, attivazione di un servizio di pronto intervento sociale fatto dagli operatori sul territorio, pronti a intervenire H24 nelle situazioni di maggior emergenza o a chiamata, e la distribuzione di beni materiali. Un progetto che integra quello che già il pubblico sta facendo. Quando si parla, e noi parliamo negli ultimi tempi spesso, di welfare di comunità, questo è un esempio concreto, cioè integrare il pubblico, i servizi pubblici, dei servizi sociali che il comune, la regione mette in campo, con quello che fa il privato sociale, che già facevano, ma in questo modo entrano in sinergia e si danno ulteriori servizi.